Ancora una volta il governo musumeci sul tema dei rifiuti dimostra di avere poche idee e per di più confuse. E' questo l'attacco di oggi del gruppo consigliare del PD all'indomani della notizia della raffica di esclusione di comuni dal bando per le compostiere di comunità e per quanto riguarda Sciacca della possibilità anche di ampliare il centro comunale di raccolta. Se da un lato osservano i consiglieri DEM si promuovono misure finanziarie a volte ad agevolare il compostaggio domestico nei comuni siciliani, sollecitando le amministrazioni e consigli comunali ad assumere con la massima speditezza tutte le azioni necessarie a poter attingere a risorse finalizzate a sostenere e ad incentivare tali pratiche, dall'altro lato incredibilmente la stessa regione esclude da tali misure ben 97 comuni richiedenti a fronte di solamente 5 stanze dichiarate ammesse. Quelli del PD ritengono che tali numeri da soli dimostrino l'assurdità di una vicenda definita grottesca, che grida vendetta e impone un immediato chiarimento a tutela di quelle comunità siciliane che stanno producendo il massimo sforzo per poter promuovere forme di smaltimento dei rifiuti più efficienti e meno inquinanti. Si domandano i componenti del gruppo consigliare del Partito Democratico come si possa da un lato chiedere ai comuni siciliani di fare uno sforzo in questa direzione e dall'altro poi escluderli da risorse finanziarie necessarie a sostenere tali sforzi. Appare evidente per il PD di Sciacca la contraddittorietà del comportamento del governo musumeci, democratici che a questo punto pretendono chiarezza e fanno notare come il gruppo parlamentare del PD, di cui fa parte anche il saccenza Michele Catanzaro, sia stato l'unico che abbia immediatamente dato voce al bisogno di chiarezza di tutti quei comuni siciliani Sciacca su tutti, che si sono visti sbattere la porta in faccia da un governo che a chiacchiere dice di essere per forme più moderne di smaltimento e di riciclo dei rifiuti. Il governo, concludono i consiglieri comunali del PD di Sciacca, deve rispondere, i siciliani hanno il diritto di sapere per idem da domani questo governo, ove dovesse essere confermato l'esito di tale istruttoria che esclude mezza Sicilia, non avrebbe più titolo a parlare di temi simili.